Allora ragazzi, Giovanni Albanese, oggi abbiamo deciso di portare un'altra fonte di calciomercato perché in questa giornata, ragazzi, sta succedendo di tutto Giovanni, grazie per aver accettato l'invito Grazie a te Luca, è un piacere Tra l'altro la prima volta che ti porto sul canale ci siamo sempre trovati in dirette, varie, insieme però in video la prima volta e tra l'altro sentivo da Lello che anche tu stai pensando di affrontare questa nuova avventura su YouTube anche Sì, qualcosina, sto ragionando più che altro sui format perché poi chiaramente il giornalista deve sicuramente monitorare un po' tutte le piattaforme secondo me YouTube apre a tante possibilità però ecco, sto ragionando, sono in quella fase di riflessione che magari mi porterà dritto a trovare una chiave diversa rispetto a tante altre che apprezzo e che seguo sempre con tanto piacere Guarda, mi farebbe piacere, nel caso sarò ben lieto di aiutarti, supporto e quant'altro per la crescita del canale Con piacere Conta su di me Allora, oggi io faccio un video e dico ai ragazzi ragazzi, oggi di calcio mercato ho veramente poco da dire abbiamo concluso Vlaovic, adesso vediamo cosa succede nelle ultime ore non ci sono notizie è sabato, volevo rilassarmi quindi magari sarà l'unico video della giornata qualcuno invece mi dice, no, non ci si rilassa è a fine mercato io voglio sapere che cosa sta succedendo sul centrocampo e poi lì è esploso tutto perché oggi veramente Ma eri a colazione stamattina quando pensavi di poter riposare per questo Bene o male, sì, erano le dieci dai, erano intorno alle nove e mezza dieci Poi, poi, poi è cambiato tutto Ma io non riesco a capire Vai, crono storia della giornata di oggi facci un'analisi di quello che è accaduto Guarda, tre parole chiave che furono utilizzate dai dirigenti della Juve la scorsa estate da Federico Carubini in particolare Quando gli si chiese Hai sostituito Ronaldo con Ken? C'è qualcosa che non va E lui disse, no, non abbiamo sostituito Ronaldo con Ken Abbiamo semplicemente pensato di anticipare il futuro Le tre parole sono anticipare il futuro Bravo, bello, sì, bel collegamento Perché in effetti questa sessione di calcio-mercato la possiamo vedere come l'anticipazione, lo spoiler di quello che doveva essere quest'estate Ben o male, no? Assolutamente sì E questo sta succedendo E questo sta succedendo fino al termine della sessione di mercato invernale Perché con Vlaovic non è tutto qui Hai anticipato il futuro sul centroavanti E stai trovando le condizioni per anticipare il futuro anche a centro campo Dove un uomo serve Serve però con alcune caratteristiche che Allegri ha chiesto in maniera molto esplicita Abbiamo sempre detto Lui vuole un uomo che possa aggiungere fisicità in mezzo Certo Una considerazione che molte volte è stata messa in discussione nelle ultime settimane Perché poi possiamo discutere tanto di cosa c'è o meno nel reparto mediano di questa Juventus Però Allegri ha chiesto un uomo che possa aggiungere fisicità Quell'uomo è Zaccaria È stato individuato C'era già un accordo per la prossima estate Così come c'era per Vlaovic Le condizioni per chiudere in entrata Zaccaria Sono le cessioni che dovranno esserci nel corso di queste ore Su Kluseschi ha fatto un passo in avanti il Tottenham Paratici stima tantissimo il calciatore Lo stima anche Conte che probabilmente ci rimase un po' male Quando il calciatore arrivò alla Juve nel gennaio del 2020 Si accontentò di Eriksen Si accontentò di Eriksen in quella sessione al posto di Kluseschi Nel frattempo la Stonbilla stava facendo sul serio per Bentancur Che però non sembrava convintissimo di questa soluzione Tant'è che aveva fatto una richiesta importante per quanto riguarda l'ingaggio Quasi il doppio rispetto a quello che percepisce oggi alla Juve Però Rodrigo ha risposto al telefono al buon Paratici che ha pensato anche a lui E dunque il Tottenham oggi sembra ormai prossimo a fare una doppia operazione con la Juventus Prendendo Kluseschi e Bentancur Uno a titolo definitivo L'altro con un prestito condizionato che porterà al rescatto E sostanzialmente questo va a spianare la strada completamente Ovviamente ad un altro colpo in entrata Che è quello di Zaccaria Allora, tanto tantissima carne al fuoco Wow, proprio un abbraccio Abbiamo fatto una grigliata insieme qua adesso Aspettiamo che si cuoccia Subito su Zaccaria Noi l'avevamo analizzato qua sul canale YouTube Abbiamo guardato le caratteristiche tecniche Abbiamo guardato un po' di tutto E sembrava davvero Ma ti parlo di un paio di settimane fa Sembrava davvero un colpo interessante Il famoso mediano giocatore di equilibrio Che Allegri chiede da non so quante stagioni E che bene o male non ha mai avuto lì davanti alla difesa Perché vado a memoria Ma Pirlo, Marchisi o Pjanic Sono sempre stati giocatori diversi Dal volante che aveva in testa lui Per intenderci il Wab Bommel Che usa nel suo ultimo anno Anzi nel suo secondo anno al Milan Quindi quel giocatore con quelle caratteristiche lì Per dare un po' più di equilibrio Ed era anche un discorso che Allegri aveva tirato fuori In qualche conferenza Allora metto tutti i centrocampisti di qualità Le mezze ali Gli terzini che fanno le ali Quindi Allegri lo chiedeva Da tanto sarei contento del suo arrivo Tanto vabbè concedimi una battuta Conte Paratici Qua stanno facendo un grande favore alla Vivento Stanno ricordando un po' il loro passato Te l'ho commentato anche su Twitter Cioè parliamo di circa 70 milioni di euro Per queste due uscite Sì occhio però perché Poi qui dobbiamo capire effettivamente Quali sono le esigenze che si sposano All'opportunità Ok Perché comunque il Tottenham sta prendendo Un giocatore classe 2000 Sul quale se c'è l'allenatore E il direttore sportivo che fa la squadra Che credono fortemente su questo ragazzo C'è grandissima prospettiva Cusè che è chiuso in questa Juve Certo Non è un giocatore scarso Non è un giocatore sul quale Non si può costruire un futuro Probabilmente le pressioni Che si ritrova a dover gestire oggi In un contesto come quello bianco-nero Non lo mettono pienamente Nelle condizioni di andare oltre Lui è un introverso Qui le cose negli ultimi anni Insomma sono un po' complicate E quindi l'errore ti pesa molto di più Non trovi continuità E serve magari Quell'essalto di qualità In termini caratteriali Magari questo non è avvenuto Ma resta un classe 2000 Sul quale obiettivamente Tutto il calcio europeo Guardava con interesse E continua a guardare con interesse Quindi comunque Kuluzeski è un giocatore importante Mi passi il termine Grezzo Grezzo Hai pienamente ragione Cioè è un giocatore Che è lì E forse negli ultimi due anni Ha dimostrato che Il salto dal Parma Che correva per la salvezza in Serie A A questa Juve Che non può permettersi Il minimo errore In qualunque tipo di competizione Probabilmente serve ancora Uno step intermedio Magari in un contesto Come quello del Tottenham Che è un contesto importante Però magari ecco A livello mediatico Il calcio inglese Si vive con Con un pizzico Di leggerezza in più E ad un classe 2000 Come lui E ad un introverso Come lui Può solo far bene Ancora di più Con un allenatore Come Conte Insomma Lo andrà a martellare E con Paratici Che crede fortemente Su di lui E il discorso Comunque Dobbiamo allargarlo Anche su Bentancur Che resta comunque Un classe 97 Che ha già diversa esperienza Nel calcio europeo E ha tutte le carte regola Per far bene In un club Che insomma È lì Tra Europa League Con l'ambizione Di entrare Nella 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 Champions League Ci sta tutto È comunque Un doppio acquisto Importante A cifre Che fanno comodo Alla Juve Sì Ma il Tottenham Per quelli che sono I parametri Del calcio inglese Porta a termine In linea In linea Sì 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 Ma infatti Come ti avevo commentato Nel tweet Dicendo Bene o male Ripaghiamo Vlaovic Con queste due cessioni Semplicemente Però Perché in Italia A noi queste cifre Fanno gola Invece all'estero È la base E se Per Kuluzeski Ti ho detto Grezzo Per Bentancur Forse oserei dire Incompiuto Perché È sempre stato Quel calciatore Da cui si aveva Un grande aspettativa Arriva nel contesto Teves La prelazione Su Bentancur Tanti anni Alla Juve Titolare Della sua nazionale Tre allenatori diversi Forse solo con Sarri Davvero La stagione è brillante Un po' di incertezza In tutte le altre È mai stato davvero Un insostituibile Né per Pirlo Né per Allegri Quindi Un giocatore Probabilmente Che poteva avere Tutto un altro destino Ma che anche oggi Non è un titolare fisso Quindi la Juventus Non perderebbe L'opportunità Eventualmente Per il moristante Che c'è una clausola Sulla rivendita Del giocatore Di monetizzarlo Oggi Però una domanda Te la faccio Con la Stone Villa Hai detto che Si sono parlati Proprio C'è stato un contatto Risposto E ha detto no Ma La Juventus Avrebbe accettato Quell'offerta Che mi pare essere Tra i 20-25 milioni Della Stone Villa E non l'ha accettata A Ventancourt Oppure perché c'è Un'asta col Tottenham E chi offre di più La Stone Villa Faceva una proposta Da 20 milioni Ok La Juve Voleva ragionare Su una base Di 25 Ok Però le richieste Del calciatore Erano alte Erano molto alte Ripeto Quasi il doppio Rispetto a quello Che percepisce Oggi In Juventus Di conseguenza La Stone Villa Ha capito Che si giocava Realzo C'era un'asta Doveva Semplicemente capire Chi era l'antagonista Alla fine Nelle ultime ore È venuta fuori L'antagonista Si è palesata Che è appunto Il Tottenham E visti i rapporti Tra Paratici E Ventancourt E probabilmente Lì si è capito Anche che c'era Un certo tipo Di canale Preferenziale Preferenziale Senza dubbio Consentimi di dire Però che A Ventancourt Probabilmente abbiamo Chiesto spesso Qualcosa che non è lui Di essere Quello che in realtà Non è Certo Perché lo abbiamo Inserito Benissimo Lo inserì Massimiliano Allegri Nel calcio italiano Lui arrivava Comunque da esperienze Importanti Come Fatta al Boca Junior Ma Insomma Serviva qualcosina Di più Per farlo diventare Un giocatore Importante Nel calcio italiano Poi ad un certo punto Poi ad un certo punto Abbiamo chiesto Ad una mezzala Difensiva Di fare regista Di fare regista E quando Lui doveva Fare quel salto Di qualità Nel cambiare ruolo Ha mostrato Tutti i suoi limiti Da regista Certo Quando poi Gli abbiamo chiesto Di diventare Un incursore Capace di far goal Hanno esatto I limiti Nella zona Di rifinitura Di inserimento Vicino alla porta Quindi gli abbiamo chiesto Di essere quello Che non è Lui è un difensore Lui è un centrocampista Difensivo È uno che probabilmente In quel ruolo lì Non te ne sbaglia una Però non te ne sbaglia una In quel ruolo Se gli chiedi di fare altro Ad oggi Abbiamo visto Un giocatore lontano Dai sogni Tra virgolette L'ultima partita Che farà Eventualmente Maglia Juve A San Siro col Milan È una partita Di alto livello Di alto livello Partita perfetta Io credo sarà Ricordata come la sua Ultima partita Proprio perché Credo che Siamo prossimi Alla chiusura Dell'operazione Kuzeski Bentancur al Tottenham E credo Viveremo le ultime 48 ore Di mercato Semplicemente In questa fase Conclusiva Di cronaca Ormai Perché poi Questo trasferimento Doppio Ci porterà Zaccaria Qui a Torino Quindi dovremmo vivere Poi le prime ore Di Zaccaria a Torino Molto vicini Quindi all'accessione Di tutti e due Al Tottenham Molto vicini Mi stai dicendo Ci siamo Praticamente quasi Sì Sì Luca Siamo prossimi Alla fase conclusiva Un po' come quando Abbiamo capito Che la Fiorentina E la Juve Stavano parlando Per Vlaovic Ma si trattava Per chiudere E non più Per tornare indietro Qui vedo Poche possibilità Che si torni indietro Discorso ben diverso Rispetto a Vlaovic Perché lì davvero Non si poteva più Tornare indietro Per chiari I motivi ambientali Certo Questa è un'operazione Che farà Comodo A tutti Direi di sì Direi di sì Però Siamo davvero lì Nella fase Della definizione Dei dettagli E il Borussia Zaccaria ha accettato L'offerta da Juve Perché da quanto capitolo Il ragazzo sì Avrebbe accettato L'offerta da Juve E la palla passava al club Sì ma siamo Davvero prossimi Anche lì Alla definizione Cioè Mi pare Adesso che la Juve Stia solo aspettando Di concretizzare L'uscita Di Bentancur Così come Di Kulosevski Per poi passare All'altra fase operativa Che significherebbe Chiudere Ufficialmente Zaccaria Siamo lì Passeremo una bella domenica E poi chiaramente Ci sarà da fare Un lungo lunedì Giovanni ma un giornalista Cioè Professionista Che fa questo di mestiere Parla di mercato Le premesse No Niente colpi Teatro No Vediamo E poi questo Perché questo è un mercato Invernale che non si è mai visto In Serie A Non dico nella Juve In Serie A Un mercato del genere No ma guarda Questo è un mercato Straordinario Che È possibile Solo per volontà Di una società Che ha deciso Davvero Di anticipare Degli investimenti Perché Diversamente Ma non lo immagini Neanche di poter fare Un mercato del genere Detto questo Sappi che Quando c'è Troppa voglia Di palesare Una certa linea Una certa serenità Una certa Chiusura No E però Quel 100% Non ti arriva Ma ti arriva Solo il 99% E Quell'1% Lì deve Comunque Parti pensare Che trascorrerai Il mese di gennaio Con Col batticuore È lo simbolo Del silenzio assordante Eh sì Era tutto Troppo Tranquillo Era tutto Troppo Scontato E invece Però adesso Qua Una riflessione Tecnica Ci va Perché Tu fai due uscite Tre probabilmente Con Ramsey Magari dopo Sai qualche parola Su Ramsey Però Ufficialmente Ne hai fatte quattro Perché Chiesa Da considerare Un giocatore Un'uscita Dalla Juve In questo momento Con l'infortunio Non fa più parte Della rosa Per la stagione C'è di Kuluseschi C'è di Chiesa Significa che Sugli esterni D'attacco Inizia ad avere Le pedine contate Perché c'è Quadrado C'è Bernardeschi Puoi adattare Morata Puoi far giocare Ache Però iniziano ad esserci Pochi spazi lì Quindi Dato che la Juventus Fino adesso È andata di 4-4-2 4-2 Tra uno che dir si voglia Significa che Allegri Ha in mente un cambio Un rombo Un 3-5-2 Inizia a scappare Degli esterni No Io credo Allegri Con questo mercato qua Possa avere tutte le Le ipotesi Aperte Ok E credo Questo mercato Vada vissuto In una maniera diversa Nel senso che Uscite Ed entrate Stravolgono le gerarchie Di Reparo Eh direi di sì Perché Questo perché Perché Blaovic Sposta La visione Su Morata Che resta La Juve Sì ma non è più Il centravanti Titolare Ma è Un attaccante Esterno Lo defila E quindi Torna in quella Zona di campo Dove idealmente Immaginavamo Chiesa Certo Kuluseschi Che voleva già Giocare molto di più Rispetto a quanto fatto Nella prima parte Di questa stagione Non avrebbe accettato Un'esclusione Ancora più palese Allora Togli Kuluseschi Tieni Morata Che ha sicuramente Più esperienze Quindi tira maggiori garanzie E l'ultimo di reparto Diventa che Che promosso Dalla seconda squadra Under 23 Comunque lo vive Come un salto Nel suo percorso E certo che sì Anche perché Gli cieli Kuluseschi E quindi Tutti gli uomini di reparto Ben soddisfatti Del percorso stagionale Che stanno facendo Questo in attacco A centro campo È abbastanza simile La situazione E con Artur Che sì Voleva andare all'Arsenal Ma l'Arsenal Non garantiva Le richieste Fatte Dalla Juve E allora resta E dividerà il posto Con Locatelli È chiaro che Nell'undici di partenza Immaginiamo Un Locatelli titolare E un vice Artur Però è anche vero Che ci sono tante partite Da giocare Ed è chiaro Che con questo mercato Insomma Punti anche A fare bene In Champions League Perché adesso Insomma è una rosa Che ti consente anche Di dire Gli ottavi Li gioco Per andare avanti Li devi Mi sento di dire Li devi Passare Mi sento di dire Li devi passare Così come Non puoi assolutamente Più dire Chissà se ci arrivo Chissà se arrivo Nei primi quattro posti Cioè qui Gli obiettivi Non sono solo chiari È un urlo Assolutamente Questo mercato Questo mercato ti impone Adesso di fare Un determinato percorso Ma anche perché Noi abbiamo sempre ragionato Sul Vabbè arriva Vlauci per sostituire Morata Vabbè arriva Zaccaria per sostituire Artur No tu hai tenuto I giocatori più importanti I tuoi ruoli Cioè tu Hai solo cambiato Le gerarchie In maniera più funzionale Rispetto a quelle che sono Le idee dell'allenatore E l'identità di squadra Che devi tirar fuori Qui volevo arrivare Perché quanti anni è Che si dice che la Juventus Dovrebbe fare il mercato Secondo l'allenatore E quanti anni è Che non si è mai fatto Si è guardato sempre L'occasione Si è guardato sempre Quello che conveniva fare Invece no Adesso c'è stato Un'impronta forte Penso di Massimiliano Allegri Ma sai Luca Purtroppo Quando poi ti ritrovi A dover gestire Situazioni Non solo tecniche Ma anche economiche Relative al bilancio A volte le scelte Sono forzate Obbligate Ti ritrovi a dover vendere Per necessità E non è mai un bene E' una Juve Che ha avuto Grazie alla solidità Della proprietà Ha avuto la forza Di azzerare Di arrivare a termine Con quei calciatori Che sono ancora in Juventus Ma non rientrano Nei piani del futuro Ma si stanno comunque Onorando Ma anche tutti gli altri In Rosa Dici proprio Sì sì Anche quelli che sono oggi In Rosa Ci sono tanti giocatori In scadenza Che avranno magari Delle proposte a ribasso Però restano comunque In scadenza E' una Juve Che sta vivendo Questa fase di transizione Però poteva viverla In maniera passiva O in maniera attiva Beh ha deciso di viverla Non solo in maniera attiva Ma in maniera Propositiva Propositiva Assolutamente sì Siamo già proiettati Nel futuro E quindi sai Io non so Se oggi Di Bala Sarebbe in grado di dire Bah Non lo so Penso se Magari Non so se voglio rinnovare Anche Di Bala Ma Di Bala Ma Di Bala Ma Di Bala Ma tutti gli altri Guarda Questa è una grande Juve E hai la sensazione Che possa diventare Una grandissima Juve Nel giro di poco Perché poi Occhio Abbiamo sempre detto La Juve riparte dai giovani Ma la Juve sta ripartendo Da giovani Di grandissimo valore Ma è quello il punto Pronti Perché Allegri Ti ha sempre detto quello Allegri non ti ha mai detto No guarda Questo non gioca Perché non è giovane Questo non gioca Perché per la mia concezione Di calcio non è pronto Vai a prendere Vlaovic Che è capo canale della Serie A Zaccaria Che è un centrocampista Rodatissimo Che entra nei top anni Della sua carriera E lo vai a prendere Locatelli Locatelli L'inizio stagione Entra subito Ed è protagonista Non ha bisogno di Chissà quali periodi Di inserimento Questo è un po' Quello che Il metodo Che secondo me Sarà adottato Da qui alle prossime stagioni Probabilmente Allegri Quando finì La sua prima avventura In bianconero Aveva già in mente Questo tipo di Juve Forse gli ultimi anni Sono anche serviti Per allinearsi Comunque A quello che È il Il progetto Rispetto ad un'idea Che probabilmente L'allenatore Aveva già da un lato Il club stesso Aveva Sicuramente Come concetto Come sviluppo Si voleva arrivare qui Dovevi semplicemente Capire come Posso dirti che Questo risponde A una delle più grandi domande Che mi sono sempre fatto Quest'estate Perché La domanda Mi furlava nella testa Ma chi gliel'ha fatto fare A Massimiliano Allegri Di rifiutare il Real Madrid Per tornare alla Juventus Prendere in mano Questa Juve Nel momento più difficile Da Juve E senza Ronaldo E con un mercato Fermo Di quest'estate Ma chi gliel'ha fatto fare E lui continua a parlare Di Eh Quest'anno è così Vediamo se l'anno prossimo Torniamo Ed è qua che ti chiedo Ma quindi questa cosa È stata Progettata a tavolino Nel senso Primo mercato estivo Vediamo come va E poi facciamo in inverno Era una promessa Che poteva essere fatta Da Allegri Già da prima O è stato un botto Incredibile Ma guarda Io credo Allegri Sapesse sicuramente Quello che La Juve Avrebbe fatto Però Non Secondo me Non ha sposato Un progetto Con Con una pianificazione Così articolata Ok Questo mercato di gennaio Probabilmente È figlio di Una percezione Che pian piano Si è fatto È diventata sempre più concreta Nella prima parte Di questa stagione Avevi la sensazione Che questa Juve Potesse arrivare Al termine dell'anno Fuori Dalle zone Dalle posizioni Della classifica Che contano E comunque Ancora è tutto Da dimostrare Perché adesso Con questo tipo di mercato Gli alibi sono finiti Anche per l'allenatore È il campo adesso Adesso è solo il campo Adesso è solo il campo Detto ciò Io ti dico La Juve sicuramente Aveva In testa Di fare Determinati Correttivi Più la prossima estate Ha avuto La grande forza Di anticipare Tutto questo Di qualche mese E non è poco Per quelle che poi Sono le logiche Che insomma Danno solidità Ad una società E quindi Adesso vedremo Vedremo sul campo Questa squadra Completamente trasformata Rispetto a Quella che abbiamo Visto all'opera Prima della sosta È una nuova era Infatti Ma penso che sia anche L'umiltà Della Juve Di fare un'autovalutazione Sul livello della rosa E darsi una risposta No ok Probabilmente abbiamo Sbagliato qualcosa Fino adesso Interveniamo finché Ne abbiamo ancora L'opportunità Perché ce l'ha ricordato Anche poco tempo fa L'ha messo nero su bianco La Champions È un must Sia a livello sportivo Sia a livello economico Sia a livello di immagine Però ecco Quelle parole lì Adesso suonano un po' meglio È certo che sì È certo che sì C'era un Noi non lo potevamo sapere Ma c'era un perché Dici te In quel momento lì Dici Eh scusa Ho capito Prendi in giro I colpi di teatro Mi hai detto Di non pensarli neanche Mi dici che lì Devo arrivarci Come ci arriviamo Adesso abbiamo capito Proprio perché Io non ho vissuto Vlaovic E adesso Zaccaria Come colpi di teatro Ma li Adesso capisco la logica Non sono sorprese Sono semplicemente Eh Volontà di anticipare Quel futuro Che effettivamente Ti può dare Ti può risolvere Un'esigenza Nel presente E ti dà grande Prospettiva Sul futuro Certo È chiaro che poi La prossima estate Non immagino ancora Chissà che cosa Ci mancherebbe altro Non perché la Juve Non debba più fare mercato Ma Semplicemente perché Abbiamo capito Che la linea Può essere questa Quindi a delle Cessioni importanti Corrisponderanno poi Dei correttivi Però oggi Nel vivere La Rosa E questa squadra Ti dico Ci sono sicuramente Molte più colonne Molti più punti fermi Che Ad inizio stagione Ma poi L'hai detto te banalmente Abbiamo anticipato Il futuro Cioè Significa che Una parte del mercato Che dovevi fare Questa estate L'hai già fatto ora E E Ramsey Che è l'unico Che è sempre stato Ufficialmente Sul mercato Allegri Ce l'ha ribadito Più volte In uscita Sì sì Assolutamente sì E resta in uscita Anche perché Un giocatore Che non rientra Minimamente Nei piani Della Juve Lui vorrebbe Un club Importante Per questo Ha rifiutato Tutte le proposte Che sono arrivate Da club Medio piccoli Della Premier Il contratto È pesante Insomma Prende come Vlaovic Eh forse Forse di più All'ordo Forse qualcosina Di più Ed è Ed è chiaramente Un giocatore Che ha un peso Spropositato Per quella Che è diventata La nuova realtà Della Juve E Tra l'altro La dirigenza Era stata molto Chiaro Con l'entourage Nel senso che Era ben disposta A darlo a titolo Definitivo A condizioni Molto favorevoli Per gli eventuali Acquirenti Diversamente In prestito Insomma È un giocatore Che per la Juve È in uscita Se vorrà rimanere Alla Juve Obiettivamente Non lo vedo All'interno Del progetto Sono emozionato Giovanni Da questa chiacchierata Perché abbiamo dipinto Veramente un quadro Che Me l'avessero detto Un mese fa Avrei detto Del passo Chiunque Cioè Avrei detto Ma di cosa stiamo parlando Cosa stai dicendo Ma secondo te Facciamo Invece E tra l'altro Mi sembra di vedere Una linea Dal mercato Estivo A quello invernale In cui Una Juve Coerente E ti dico A meno che Non ci sia il caso di emergenza Come è stato Ronaldo A pochi giorni Nel mercato Ove sei stato Circo obbligato A buttarti su Ken Perché era uno dei pochi Profili Che in quei giorni Potevi fare Per tutti gli altri Hai dettato Le tue regole Per Locatelli Ci sei stato tre mesi Per riuscire a strappare Le tue regole Vlaovic Le tue regole Ma anche adesso Banalmente col Tottenham Volete Kuluzeski in prestito? Sì ma obbligo di riscatto Volete Bentancur? Va bene Però questa è la cifra C'è una Juve Che finalmente Non subisce più il mercato Perché negli ultimi anni Mi era sembrato Di avere questa Questa impressione Invece una Juve Che adesso Batte i pugni sul tavolo E ti dice no Decido io E questo credo dimostri La solidità Di un club Che ha capito Che doveva fermarsi Rispetto Ad un percorso Intrapreso Che comunque Ha portato dei risultati Certo indubbiamente Magari Non lontani Semplicemente Un po' Meno Ambiziosi Rispetto a quelli Che Volevi Perseguire Mi riferisco alla Champions League Però insomma Si è chiuso un ciclo Poi ad un certo punto C'è stata la volontà Di vivere Alcuni mesi Quasi a riflessione In attesa Forse la Juve Aveva la necessità Di guardarsi dentro Per capire effettivamente Su chi poteva contare E su chi non poteva contare Sono d'accordo Perché cominciare una stagione Con tanti giocatori In scadenza Qualche giocatore in prestito Obiettivamente A gennaio di quest'anno La Juve è scesa in campo Con metà squadra Che non ha la certezza Di avere un posto Per la prossima stagione Il capocalloniere della Juve E quindi Quadrado Quadrado Che è il vice Di Di Bala Di Bala stesso E tanti altri Morata Consapevole Che Insomma Il suo percorso Juve Si chiuderà Al termine Di questa stagione Tante situazioni Di questo tipo Però Gli uomini hanno fatto La differenza Su tutto il livello Di squadra E Secondo me La Juve Come club Sta dando Sta dando Una grande risposta Come chiusura Cito Buffon Che poche Poche settimane fa Aveva detto Con Ronaldo La Juventus Va Sul campione Ma va a perdere Un po' Quello che Negli ultimi anni Era diventato Il mantra La forza Della Juve Il gruppo Lo spogliatoio L'umanità Delle persone Degli uomini Juve Si sta rimettendo Al centro del villaggio Questa cosa La Juve Davanti a tutto il resto Assolutamente Sì La Juve Quando Io Dico spesso Il nuovo ciclo Sì È un nuovo ciclo Le regole Non sono cambiate Si è tornate Alla tradizione Alla Juventinità Quella vera Niente di rivoluzionario No Quella che Fece innamorare Mio nonno Che Da piccolino Mi trasmetteva La fede Juventina Poi al di là Dei ruoli Io chiaramente Resto a fare La cronaca Però Nel vivere I nostri territori La Juventinità La percepire Percepisci Così come percepisci La anti Juventinità Certo Però Quella Juventinità Lì Che è riconosciuta E riconoscibile Da chi La ama Ma anche Da chi la disprezza Però ecco Quella Juventinità Lì Oggi Mi pare Stia tornando Protagonista assoluta Credo che sia Una chiusura Del cerchio Perfetta Per concludere Anche questo video Che è stata una mezz'oretta Ma di dialogo Penso anche profondo Oltre la mera cronaca Penso che si siano Toccati dei tasti Veramente importanti Ti ringrazio per La disponibilità Ovviamente tutti i ragazzi Potranno trovarti Su Twitter Potranno trovarti anche Su Instagram Ho visto che inizi a essere Molto attivo anche Su Instagram E chissà Magari un giorno Un canale Telegram Anche su Telegram È vero L'ho visto anche prima Che l'avevi messo Nelle storie Perfetto Giovanni Grazie mille Sincero Lucido Limpido Come sempre Speriamo che Davvero ora Sia al campo A parlare Perché La dirigenza Il suo l'ha fatto In questa sessione Di mercato Grazie a te Luca Grazie Grazie mille Grazie mille Buon sabato a tutti Ciao a tutti Grazie mille